e c'è il bananetto a casa il bananetto a casa no è una bananetta il coso vai 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 ciao ciao addio vado a morire bella fina del v v v v v v v Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Perché non riuscite le palette? Non si è aggiunto il capo di su. Quanto viene fatto fuori? Ma, perché sono niente? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.